Le notizie false ed infondate che circolano sull'Axilella e che promuovono soluzioni antiscientifiche per arrestarne la diffusione rischiano di creare confusione, allarme sociali e danni concreti all'economia regionale. Per questo motivo un Napole Italia Olivico, la due tra le più importanti organizzazioni di produttori d'olio in Italia, hanno presentato un esposto alla Procura di Roma contro la deputata del Movimento 5 Stelle Sara Cunial, il senatore eletto con i pentastellati e poi confluito nel gruppo misto Saverio De Bonis, responsabili secondo le organizzazioni denuncianti di aver alimentato un sistema di fake news sul problema Axilella, proponendo soluzioni alternative all'eradicazione degli ulivi infetti. Strada che invece rimane al momento l'unica percorribile per tamponare la diffusione del batterio, sostiene Unapol, che ora, attraverso il suo esposto in Procura, vuole porre un freno alla divulgazione di teorie definite pericolose e destabilizzanti. Bisogna dire basta, stop a queste fake news anche con azioni forti, che non significa un voler precludere discussioni. Io dico oggi abbiamo un'emergenza e dobbiamo risolvere l'emergenza. È da folli immaginare che chi vuole l'eradicazione non ama il territorio o non ama il proprio terreno. È proprio da folli, da pazzi. Io sono innamorato per l'agricoltore, quella pianta e il pane e la sussistenza quotidiana. E radicarla è un dramma. Ci auguriamo che la scienza e il progresso anche nella medicina magari ci aiuti e possa portare un giorno a non amputare più l'arto. Ma oggi è l'unica soluzione. È così per il problema Xylella. Oggi l'unica soluzione è eradicare le piante. Questo non basta. A questo bisogna affiancare chiaramente le buone pratiche agricole. Non vediamo l'ora di essere auditi dal Procuratore della Repubblica. Replica l'onorevole Cugnial sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che i milioni di euro in arrivo dall'Unione Europea grazie alla questione Xylella a quanto pare stanno surriscaldando gli animi di molti. Il nostro ruolo ci impone di vigilare sulla loro gestione, che trattandosi di soldi pubblici deve essere oculata e trasparente. Intanto il ministro all'agricoltura Centinaio ha promesso ieri una nuova iniziativa legislativa per fronteggiare le emergenze gelate e Xylella. Il presidente di Unapol, Tommaso Loiodice, continua a dirsi preoccupato per l'eseguità delle risorse che il governo vuole mettere in campo e per questo motivo il prossimo 14 febbraio a Roma aderirà alla protesta dei gile arancioni. Quello che sta uscendo non soddisfa le nostre richieste perché in termini economici si parla di 32 milioni di euro a fronte di quei 100 milioni di euro che noi avevamo individuato non come risoluzione al problema ma come voler tamponare e dare un piccolo respiro alla filiera. In questo decreto non si intravedono forme di sostentamento e di aiuto ad alcuni attori della filiera e mi riferisco al settore delle cooperative e al settore ai frantoiani perché anche loro sono stati vittime dell'effetto gelata e quindi chiederemo di reperire maggiori risorse e chiederemo maggiore attenzione al comparto.